Vi diamo il benvenuto in un corso dedicato alla storia e alla memoria dei lager nazisti, delle vittime, dei protagonisti, di chi ha inventato questo sistema, di chi l'ha subito. In questi anni c'è molto interesse attorno ai lager nazisti, molti ragazzi visitano i campi tutti gli anni, se ne parla molto sui giornali, su tutti i mezzi di comunicazione, però c'è anche molta disinformazione. Come si è arrivati alla costruzione di questo sistema di campi nel quale sono morti milioni di persone, uomini, donne, bambini, questo rimane sempre in ombra, è poco chiaro. L'associazione degli ex deportati, che si occupa della memoria delle vittime dei campi, pensa che non ci sia memoria senza conoscenza e quindi questa è la motivazione per la quale noi abbiamo promosso il corso che state per seguire. Il corso è organizzato in sei moduli. Il primo è introduttivo ed è particolarmente indicato a chi non avesse ancora affrontato questi argomenti a scuola o chi li volesse ripassare. Il secondo ci aiuta a contestualizzare le deportazioni all'interno del contesto della Seconda Guerra Mondiale. Il terzo è il cuore di questo corso e ci parla del sistema concentrazionario nazista. Il quarto è dedicato ai deportati, quali categorie, quali numeri, quanta sofferenza. Il quinto ci parla del rientro a casa dopo i campi. E infine il sesto ci aiuta a capire quali siano state le eredità nell'oggi, nel discorso pubblico di oggi. In ogni modulo troverete dei video curati dal laboratorio Lapsus, delle videotestimonianze dei sopravvissuti alla deportazione, da cui si può ascoltare la loro testimonianza diretta, e dei test per valutare se abbiamo capito. Ogni video è sottotitolato. Fate queste premesse, buon approfondimento e buon corso.